ciao amici dei profumi e amici di fabrizio benvenuti in un nuovo video di profumizio oggi il tema sono le acque golose infatti vi parlo delle mie acque acquolina ne ho diverse alcune sono in commercio tuttora altre invece le ho reperite su internet o comunque sono di qualche anno fa quindi non si trovano più è una piccola collezione con anche dei profumi un po particolari allora ve le faccio vedere e poi vi dico i gusti che ho scelto questa è acquolina agrumi e mandorle dolci questa versione piccolissima buonissima sa di fiori d'arancio più che di agrumi la mandorla non si sente tantissimo però è buona molto buona piccola tascabile da mettere in borsetta poi abbiamo questa buonissima mandarino e fico questa l'avevo comprata in negozio però adesso non si trova più non so se su su internet è reperibile questa è veramente buona una chicca si sente tanto il mandarino la nota del fico nella sua interezza veramente buona estiva da usare anche magari con i profumi che hanno le note di fico poi abbiamo liquirizia e mora anche questa adesso non le spruzzo tutte sennò buonissima la nota della liquirizia molto leggera addolcita dalla mora buona anche questa quella nota della liquirizia nei profumi mi piace molto magari non mi piace la liquirizia tantissimo però nei profumi è molto gradita poi abbiamo questa arancia e vaniglia vabbè questo abbinamento è un classico buonissima molto fresca un'arancia di cui si sente tanto la scorza e la vaniglia un po di sottofondo poi questa di questa ne ho due perché l'ho cercata a lungo l'ho trovata poi su il sito arsidera e ne ho comprate due perché è quella al latte di mandorle che è una nota che mi piace molto infatti ho diversi profumi anche che hanno che sono al latte di mandorle e mi piacciono molto è una nota che che amo e quest'acqua è veramente buona sa proprio del latte di mandorla che si trova in commercio quello quello dolce però non quello diciamo la bevanda di mandorla che sostituisce il latte buonissimo poi ricordo un po le stati passate perché quando ero piccolo spesso appunto facevamo lo sciroppo con il latte di mandorle oppure prendevamo il latte di mandorla da bere fresco poi un'altra acqua di acquolina e miele sublime questa miele sublime tra l'altro è ancora in commercio quindi questa la trovate sa proprio tantissimo di miele quasi di caramella il miele tra l'altro tra tutte questa è dura tantissimo perché si sente sul corpo praticamente tutto il giorno naturalmente non è forte come quando la si spruzza quando si spruzzano queste acque sono molto molto intense poi si smorzano un po però lasciano quella base buona che se uno abbina magari i profumi è veramente piacevole poi questa anche questa è un'altra chicca che ho trovato su penso sempre su arsidera che mango fresco e il nome proprio azzeccato perché non sa di quel mango un po sintetico l'aroma di mango che si sente spesso nei profumi o in qualche preparato è proprio un mango vero e proprio buonissimo vedete poi alcune le ho usate di più altre di meno poi mi spiace usarle perché poi alcune appunto non sono facilmente reperibili quella latte di mandorla ci ho messo un po' a trovarla poi questa anche questa mi ricordo questa l'ho acquistata in negozio da tigota perché tigota vende acquolina agrumi speziati e anche questa però secondo me sta andando ad esaurimento poi abbiamo pesca e albicocca anche questa buonissima poi soprattutto chiama la nota della pesca questo si sente molto ricorda un pochettino il profumo pesca nettarina di bottega verde che non c'è più e questo ha quella dolcezza quella freschezza è una pesca ecco a differenza del mango di prima un pochettino forse più più sintetica un aroma insomma artificiale di pesca poi un'altra acqua questa forse è la mia preferita insieme al latte di mandorla fico e iris è una cosa anche questa molto duratura come quella al miele si sente sul corpo tutto il giorno c'è questa nota dolce del fico e questa nota verde dell'iris molto molto polveroso molto talcato ma un talco di quelli maschili non quei talchi dolci è appunto contrapposto poi alla dolcezza del fico che qui è un fico molto polposo questa è veramente buona mi spiace che non la facciano più appunto questa l'ho acquistata mi sembra su Vinted molto buona anzi mi spiace che non facciano magari alcune fragranze di queste acque profumate perché non sarebbero male magari delle mini size poi un'altra questa sempre l'ho referita invece in negozio muschio e canna da zucchero masch però si tratta di muschio bianco infatti c'è questa nota dello zucchero di canna che è uno zucchero di canna però suave non è di quelli che sanno un po' di caramello o virano alla liquirizza perché anche lo zucchero di canna a volte ha un po' questo amarognolo liquirizioso e questo è buono anche questo da quell'idea di pulito di freschezza è molto buono poi mora e muschio questo è un classico della profumeria questo abbinamento ci sono anche tanti profumi mora e muschio questo è buonissimo anche questo devo dire c'è la mora ma non è troppo dolce e questo muschio mi sa però più che muschio bianco proprio il muschio di quercia il muschio della foresta quindi un po' more muschio questo abbinamento mi ricorda cappuccetto rosso non so perché poi abbiamo pompelmo rosa questa è adattissima per l'estate fresca il pompelmo rosa ha questo profumo molto molto buono rinfrescante mi piace molto è anche una bibita che amo bere d'estate perché il pompelmo quello giallo è un po' a sprigno invece il pompelmo rosa è dolce questo è dolce agrumato molto piacevole e poi l'ultima io ho la versione deo però questo si trova ancora in versione acqua profumata che è il cioccolato bianco anche questo mi piace molto ho visto che c'era anche il cioccolato fondente cioccolato al latte però mi convincevano un pochettino di meno invece questo cioccolato bianco trovo che sia buono perché è un profumo che appunto è portabile non sa proprio di cioccolatino bianco di barretta al cioccolato è un'acqua che ha un certo profumo leggermente vanigliato anche mandorlato secondo me questa è la versione deodorante magari poi quando la terminerò comprerò anche l'acqua profumata al cioccolato bianco poi ce n'è in commercio anche lo zucchero a velo che però non ho ancora acquistato un po' troppo dolce però magari per completare la collezione l'acquisterò poi c'è anche unicorno zuccheroso che però mi sembra troppo simile a quella all'acqua lo zucchero a velo anche se poi alla fine penso che comprerò anche quella perché amo molto gli unicorni ne ho tantissimi qui in casa e li colleziono quindi probabilmente anche quella la comprerò poi una curiosità ne avevo comprata una sempre su vinted al lici però poi una ragazza mi ha chiesto cortesemente diciamo di rivendergliela perché faceva la collezione io non mi piaceva particolarmente quella al lici nel senso che secondo me boh aveva un profumo forse era un pochettino vecchia non lo so infatti io glielo ho detto per correttezza guarda che non ha un profumo buonissimo lei però mi ha detto non mi importa le colleziono se me la puoi rivendere infatti glielo ho rivenduta al prezzo che l'ho pagata e quindi ha completato la sua collezione quindi avevo trovato anche l'acqua profumata di acquolina al lici poi naturalmente ho anche qualche bagno schiuma però vabbè in questo video non ve ne parlo magari ci sarà un'altra occasione quindi concludo dicendo che queste acque mi piacciono molto diciamo hanno queste notte gourmand fruttate zuccherose vanigliate che comunque io amo e quindi mi piace utilizzare dopo la doccia alla sera prima di andare a dormire qualche volta se trovo un profumo che si abbina mi piace anche spruzzarle appunto su tutto il corpo e abbinarci un profumo vi invito a seguirmi su instagram su youtube profumizio scrivete sotto i vostri commenti che mi fanno piacere anche le critiche sono accette e vi mando un bacio e ciao ciao con la manina e ciao anche agli unicorni ciao ciao amici di profumizio faccio una piccola aggiunta al video acquolina perché avevo altre due proposte insomma da presentarvi una è quest'acqua corpo che ho trovato se non sbaglio su ebay che ha un gusto veramente particolare infatti appena l'ho letto mi sono buttato pasticcino alla rosa glassata è un profumo molto buono che appunto sa leggermente di acqua di rose l'acqua di rose della roberts ha quel profumo che comunque diciamo per noi cresciuto negli anni 80 è molto evocativo insomma di quel periodo è una rosa che ecco non sa di dolce di pasticcino come dice il nome però effettivamente è molto piacevole tra l'altro infatti pensavo che sarebbe bello fare una linea diciamo un pochettino dedicata ai dolci attualmente in vendita abbiamo da colina la linea di bagnoschiumi al macaron quelli sono molto buoni perché hanno proprio questo sapore che ricorda il macaroni io ne ho preso uno e mi piace mi sembra che maccarone frutti rossi però non so propongo questa linea dedicata alle acque profumate insomma un pochettino ai pasticcini che ne so io al bignè alla torta di cioccolato non lo so oppure dei pasticcini che ne so io la sfogliatella perché no il babà io lo comprerei infatti quando ho letto pasticcino alla rosa glassata mi sono mi sono buttato è una è un'acqua molto buona che appunto non è diciamo gourmand però insomma la trovo molto piacevole tra l'altro comunque per dire la confettura di rose a volte la rosa viene usata in pasticceria comunque mi piace e quindi anche il profumo che hanno questi dolci alla rosa che fanno soprattutto nell'est europa sono molto buoni e poi volevo parlarvi di cui ho il deodorante di accolina fragolina di bosco questo è un cult del loro della loro linea questo è facilmente reperibile ci sono anche le acque profumate e è una fragolina di bosco buona bisogna dire la verità nel senso che è abbastanza secondo me realistica non la trovo tanto sintetica non è eco naturale come dell'acqua al mango il cui vi ho parlato però devo dire che mi piace bene quindi ho fatto una aggiunta abbastanza lunga ancora un bacio ciao ciao con la manina e alla prossima ciao